Sanità, frattura, rivendica, la regione decida da sola, il governatore punta i piedi e prende le distanze dalle decisioni assunte in precedenza dai commissari, ha incontrato a Termoli il comitato per la difesa del Santimotio, sarà rafforzato dalla riorganizzazione, ha detto. Doto sindaco a Campobasso partiti in fermento, politica in fibrillazione nel capoluogo a sette mesi circa dall'elezione, gli aspiranti alla carica di primo cittadino affilano le armi, intanto circolano diversi nomi e con la Giovanni rivendica la candidatura per il centrodestra. Comune di Isernia arriva il nuovo segretario e Franca Colella, 49 anni, la scelta è il con Brasiello che le ha conferito ufficialmente l'incarico oggi, è necessario lavorare bene con oculatezza, ha detto ma sono pronta. L'addio a Petrocelli, politico e intellettuale, cittadini e politici hanno affollato la catedrale a Isernia per l'addio ad uno dei rappresentanti più significativi della sinistra molisana, il ricordo della politica e di chi lo ha apprezzato anche come studioso. Serie D, gare in casa per Boiano e Isernia, Agnone e Termoli invece in trasferta domani per la quarta di campionato di categoria, per eccellenza e promozione si gioca la terza giornata. Edizione delle 14, buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di Telemolissi, apriamo con la sanità perché il presidente della regione Paolo Frattura rivendica l'autonomia della regione e quindi di poter decidere in merito e prende le distanze dalle decisioni assunte finora dai commissari alla sanità. Ma sentiamo Giovanni Minicozzi. Riflettori sempre accesi sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale più che mai alle prese con i ricorsi al tarre, i debiti pregressi e con i vincoli derivanti dal piano di rientro che si ripercuotono inevitabilmente sui livelli essenziali di assistenza e sulla qualità del servizio erogato ai cittadini. Tra l'altro i Ministeri dell'Economia e della Salute, per il tramite dei tavoli tecnici nazionali, impongono in continuazione tagli sul trasferimento delle risorse e scelte spregiudicate che comportano la riduzione qualitativa e quantitativa dei servizi sul territorio. I malcapitati cittadini si difendono come possono e attraverso i tanti comitati pro-sanità impugnano al tarre i provvedimenti imposti dall'alto e quasi sempre la spuntano. Insomma, si procede a colpi di ricorsi contro i dic-tac dei commissari inviati da Roma, i quali perseguono un unico obiettivo, quello di far quadrare i conti. Da qualche tempo però anche il governatore, nonché assessore e commissario ad acta alla sanità Paolo Frattura, si è schierato contro i ragionieri romani per rivendicare maggiori risorse e per affermare l'autonomia decisionale della Regione. Telemolise invece da sempre, con i tanti editoriali, l'ultimo di ieri ha puntato i piedi in difesa della sanità molisana schierandosi contro la logica dei numeri. Sembra quasi un editoriale fatto ad arte. Ho condiviso totalmente quanto affermato. La Regione rivendica la sua autonomia. Non è la Regione, non è la gestione regionale. causa dello sfacello economico finanziario e di offerta sanitaria della nostra Regione negli ultimi sei anni, ma è ascrivibile esclusivamente alla gestione commissariale, commissario, subcommissario e assistenza. C'è una presa di posizione ferma che riportiamo sicuramente sul tavolo tecnico, ma a questo punto ci sarà una condivisione anche degli organi, partendo dal governo per riportare la discussione in Consiglio regionale. In questa ottica qual è la sua idea di sanità? La riorganizzazione mi pare di averla chiarita con la proposta dei piani operativi. Una sanità capillare, una sanità che distingua nettamente acuto e post-acuto, cronico e lungodeggente, una sanità che faccia l'emergenza urgenza, una presenza capillare sul territorio. Restiamo in tema. Il presidente Frattura ha incontrato a termoli il comitato per la difesa del Santimotio e ha promesso questo presidio uscirà rafforzato dalla riorganizzazione. Sentiamo Fabrizio Occhioniere. Quanta solo un'esercitazione, così come è impostato, non lo firmerò mai. Così il presidente della Regione, commissario d'acta Paolo Frattura, ha definito il piano per il riordino sanitario, rispondendo così al lungo elenco di dati e di richiami riportati in un documento stilato dal Comitato Civico nato per la difesa dell'ospedale di Termoli. Dalla nuova riorganizzazione a cui stiamo lavorando, ha affermato il governatore, il Santimotio ne uscirà sicuramente rafforzato, tenendo presente tutta una serie di parametri. All'incontro che si è svolto nei locali del Cinema Oddo, hanno preso parte medici, personale sanitario, cittadini, tutti insieme determinati, per chiedere garanzie riguardo ai reparti, ai posti letto, a servizi indispensabili e alle misure che in sostanza, come evidenziato dal presidente del Comitato, Nicola Felice, possano garantire il diritto alla salute in basso molise ed evitare gravi conseguenze ai cittadini, senza escludere sacrifici, frattura condiviso a Termoli, l'idea di una sinergia che si costruisce con gli operatori che sono impegnati nelle varie realtà e con un'area che offre le professionalità necessarie sulla base di un'analisi epidemiologica e dati certificati. Una nuova offerta sanitaria è concluso non in linea con le aspettative del singolo, ma con le aspettative del territorio. Il Comitato per la difesa dell'ospedale Santimoteo ha assicurato che continuerà a vigilare sulle azioni in programma per tutelare i diritti di oltre 100.000 cittadini. Cambiamo argomento addio commovente ad Edilio Petrocelli nella cattedrale di Isernia. Erano presenti tutti i rappresentanti più significativi della sinistra molisana. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Cattedrale gremita Isernia per l'ultimo saluto a Edilio Petrocelli, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, prima del Partito Comunista e poi dei DS. C'erano praticamente tutti gli esponenti della sinistra molisana nella chiesa isernina, per l'addio a un uomo che è sempre stato un punto di riferimento preciso per la politica regionale. Dopo la cerimonia religiosa, la cerimonia civile della commemorazione all'esterno della cattedrale, lì dove hanno parlato il sindaco Brasiello, il presidente della provincia Mazzuto, il segretario regionale del PD Leva e l'ex collega di consiglio regionale e amico di lunga data, Norberto Lombardi. Io ritengo che Edilio Petrocelli è stato uno dei migliori deputati che questa regione ha avuto, pur partendo da una posizione di opposizione, è riuscito a costruire e a dare significato e dignità alla politica di una regione. È stato un comunista che ha guardato lontano e che è riuscito, per le cose che ha scritto, per le cose che ha fatto, è riuscito a dare il senso di un cambiamento reale alla società molisana. Edilio Petrocelli ha significato tanto per la nostra regione e per la provincia di Sernia. Negli ultimi anni, quando è stata messa in discussione la vita stessa della provincia, Petrocelli è stato anche nominato presidente dell'associazione nata in sua difesa. Sottolineato anche il forte legame che legava l'ex parlamentare alla sua famiglia, la moglie Marise e i figli Umberto e Isabella, Enrico Santoro, suo collega alla regione, ha svelato un altro particolare inedito, quello che Edilio, insieme al fratello Tonino, fu l'autore del bassorilevo artistico in ceramica che orna la facciata del tribunale di Sernia. Io credo che di Edilio mi piace ricordare anzitutto un episodio. Il pannello che è davanti al Palazzo di Giustizia è opera di Edilio e del fratello. Io ero presidente della commissione che aggiudicò e giudicò le varie proposte. Quando approvammo quel pannello e vedemmo il disegno, io dissi ad Edilio di illustrarmi ancora di più e meglio la sua idea. E lui mi ebbe un'espressione bellissima che io ho ricordato anche stamattina col fratello. Ci sono tante proposte, la giustizia fatta con la bilancia, con la lama forte come senso di forza. A me piace e a noi è piaciuto significare la giustizia con l'omogeneità, con la regolarità, con la semplicità. Ecco, tutti devono vedere in questa forma così regolare la regolarità della giustizia e una giustizia che sia uguale. Questo non l'ho mai dimenticato e qualche mese fa ci siamo rincontrati proprio davanti al Palazzo di Giustizia e abbiamo commentato queste parole. Stamattina a Cotonino abbiamo proprio detto questo di nuovo. La salma di Edilio Petrocelli dopo i funerali è stata trasportata al cimiterio di Acquaviva di Sernia, paese di origine dell'ex deputato Pentro. E adesso ascoltiamo un ricordo di Edilio Petrocelli nelle parole di Antonio D'Ambrosio. Un politico di razza, coerente con le sue idee, ma disponibile a dialogare con tutti, negli anni 80-90 ha saputo rappresentare la sinistra più illuminata, pronto a cogliere le novità e a guidare i frenetici cambiamenti della società molisana, schierandosi sempre dalla parte dei più deboli. Edilio Petrocelli, il professore, ha lasciato un vuoto incolmabile e un ricordo indelebile. È stato un punto di riferimento. Vedevamo in lui quelle giovane speranze, una giovane generazione del partito che c'è insieme agli altri, ma in particolare lui ci ha saputo indirizzare, educare. Sapeva accogliere anche le nuove speranze della nuova generazione che eravamo noi. Quindi una persona attenta. E poi era un uomo colto, uno studioso. Amava questo Molise, la sua storia, ed era orgoglioso di questa appartenenza a questo territorio. Esco a parlare dei 50 anni della nostra regione, era orgoglioso. Ho assistito più volte, sono stato a Roma con lui quando era debutato anche. Come difendeva e come con orgoglio raccontava questa regione. E poi, di una grande bontà, non ha mai trascurato di investire sui giovani. Tenuto in considerazione, dallo stesso Enrico Berlinguer, da tutta la classe dirigente, perché sapeva rappresentare con quel tratto di cultura sia le problematiche, non solo della regione, ma anche in campo nazionale. Un punto di riferimento comunque di tutte le amministrazioni locali, che pochi altri della politica molisana hanno saputo fare. Notevole anche il suo impegno culturale. Beh, ha prodotto una qualità e qualità incredibile di documentazione storica per la nostra regione. E di riflessione anche. Aveva non solo una memoria fisica, ma la documentazione che produceva e archiviava. Era un punto di certezza, quindi lascia un ricordo sul piano della politica, sul piano personale, sul piano dell'impegno sociale, civile e culturale, crede, è enorme. E ci sono svolti questa mattina diserne e funerali di un altro esponente politico di spicco della città Pentra. Si tratta di Spartaco Mercurio, figura storica della destra molisana e ide Sernina. Più volte consigliere comunale, voce tra le più ascoltate nel dibattito politico cittadino. Mercurio è stato rappresentante autorevole prima del movimento sociale e poi di alleanza nazionale. Anche per lui numerose testimonianze di cordoglio e solidarietà alla famiglia. E restiamo ad Isernia perché questa mattina è arrivato il nuovo segretario generale. Una donna si chiama Franca Colella e viene da Sulmona. Facciamo la sua conoscenza. Allora, Sindaco, ha trovato finalmente il nuovo segretario generale del Comune di Sernia? Ma sì, praticamente abbiamo terminato la procedura. Io ho individuato l'avvocato Franca Colella, amica, persona azionista impeccabile. E io sono certo che la figura adatta per cominciare quella riorganizzazione di cui il Comune di Sernia ha bisogno. Devo dire che ce la siamo anche contesa tra diversi sindaci, ma alla fine il sindaco di Sernia l'ha spuntata. Allora, Franca Colella, avvocato, segretario generale del Comune di Sulmona. Arriva da Sulmona a Isernia, quattro passi insomma. Arrivo da Sulmona a Isernia, sono stata segretario di Casteldisangro e prenderò servizio per qualche mese nella città di Pomezia. Sono molto felice e gratificata per questa scelta che il sindaco ha fatto sulla mia persona e prometto di mettercela tutta, tutto l'impegno, tutta la mia conoscenza per assecondare e risolvere le problematiche di questa città. Quando entrerà in servizio? Il sindaco ha concordato la presa di servizio per il 15 gennaio prossimo, quindi ci saranno tre mesi, tre mesi e mezzo in cui ho comunque offerto la mia collaborazione per cominciare ad affrontare le problematiche dell'ente, anche da Pomezia. Isernia è un capologo di provincia, cosa cambia rispetto ad altri centri non capologo di provincia per quello che riguarda la legge? Sicuramente per la mia persona è un'occasione di crescita professionale perché questa è una segreteria di fascia prima A. Sotto il profilo lavorativo io mi auguro di riuscire a fare del mio meglio. Scintille ieri sera al Consiglio Comunale di Termoli dove la minoranza ha protestato per la mancata discussione del punto che chiedeva la revoca del Presidente del Consiglio Alberto Montano, una richiesta dichiarata irricevibile dallo stesso Montano in quanto ha spiegato richiamando il regolamento e difendendo il suo operato anche leggendo una comunicazione del prefetto non c'era un atto deliberativo. Di diverso avviso i consiglieri di opposizione che tra le urla hanno battuto più volte le mani sui banchi ritenendo invece possibile il voto e poi hanno deciso di abbandonare l'aula annunciando anche denunce. Intanto dopo 15 mesi l'assessore Bruno Verini ha restituito al sindaco Antonio Di Brino la delega all'urbanistica motivando la decisione tra le altre cose con la mancanza di un confronto politico e amministrativo. Ed ora a Campobasso si voterà tra sette mesi ma a quanto pare il toto sindaco è già iniziato. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. È stato suo posto per dieci anni ma ora Salvatore Collagiovanni dice basta ed esce allo scoperto. In vista delle elezioni comunali di Campobasso previste per la prossima primavera il capogruppo del PDL rivendica la candidatura al sindaco della città un sogno accarezzato da anni e che ora vuole trasformare in realtà. Collagiovanni ha presentato richiesta formale al partito che ha assicurato una risposta entro la fine di settembre. Il consigliere comunale attende dunque di conoscere il suo destino politico se la risposta dovesse essere negativa ma con una motivazione che non lo convince Collagiovanni è pronto a presentare una propria lista e percorrere altre strade. Chi invece sembra essere intenzionato a proseguire sul percorso già avviato è il sindaco uscente Gino Di Bartolomeo che non avrebbe nessuna intenzione di mollare. Nonostante i problemi che attanagliano la città e malgrado le critiche rivolte anche da una parte della sua stessa maggioranza il primo cittadino non sarebbe disposto a rinunciare alla candidatura ma non sarà certo lui a decidere. E sempre all'interno del centro-destra è già ufficiale la candidatura di Pino Saluppo che avrebbe già creato una rete di liste civiche di sostegno. Nel centro-sinistra all'interno della coalizione c'è fermento. L'attuale capogruppo del PD Antonio Battista scalpita per la candidatura sindaco ma secondo indiscrezioni la sua candidatura sarebbe insidiata da quella di Augusto Massa pronto a scendere nuovamente in campo per lo scranno più alto di Palazzo San Giorgio. Uno scontro sul quale metteranno mani i vertici del partito per evitare pericolose frizioni interne. Previste anche le candidature da parte del Movimento 5 Stelle di costruire democrazia. La corsa al comune di Campobasso si annuncia avvincente. Piazza Pepe resta chiusa al traffico. Lo ha deciso il TAR che ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dai commercianti della zona che si erano opposti al provvedimento dell'amministrazione comunale. Soddisfatti gli avvocati Ruta, Zezza e Romano a cui si erano rivolte le associazioni civiche e ambientaliste in difesa dell'area pedonale. La cronaca nascondeva in casa un grosso arsenale tra fucili, pistole laser e munizioni di vario genere. L'uomo, un 43enne pregiudicato originario di un centro del Basso Molise, è stato scoperto in Piemonte dai carabinieri di Casale e Monferrato. Rinchiuso nel carcere di Vercelli, ora dovrà rispondere di detenzione illegale di armi da fuoco, oltre che di recettazione, riato per il quale si trovava già agli arresti domiciliari. Agnone si mette sulla scia dei comuni virtuosi e lancia il servizio della raccolta porta a porta. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Dal 30 settembre ad Agnone cambia musica. I cassonetti spariranno dalla strada. Diventerà infatti operativa la raccolta porta a porta dei rifiuti. Dopo una prima campagna informativa, l'amministrazione comunale, la ditta che svolgerà il servizio, hanno cominciato a consegnare nuovi contenitori ai cittadini. È una cosa su cui abbiamo puntato fin dall'inizio, fin da quando abbiamo iniziato la nostra azione amministrativa, l'idea di potenziare il ciclo di rifiuti, passare al metodo del porta a porta. È un metodo che sicuramente viene utilizzato nella maggior parte dei comuni, quelli che vengono definiti virtuosi, quei comuni che funzionano, quei comuni dove effettivamente anche questo aspetto della vita sociale, cioè della gestione dei rifiuti, non viene considerato come un qualcosa di marginale, ma viene considerato come un qualcosa di importante anche per lo sviluppo complessivo, sia in termini sociali e sia in termini anche economici. perché ci tengo a dire che con questo sistema di raccolta porta a porta e con l'ambiente, quindi nel settore ambiente, si creano posti di lavoro. Gli agnonesi finora sembrano aver raccolto positivamente la novità. Del resto anche loro vogliono dare il proprio contributo sul fronte della tutela dell'ambiente. Certo è che di fronte alla novità di questa portata, i dubbi e in alcuni casi qualche disagio non mancheranno, almeno nella fase iniziale, ma gli addetti sono a disposizione per rispondere a tutte le domande poste dai cittadini. Dobbiamo dire che finora i cittadini sono venuti anche loro abbastanza entusiasti, nel senso che non abbiamo riscontrato lamentele, anzi più che altro curiosità, capire come funziona il nuovo sistema. Noi stiamo dando le giuste informazioni, ci stanno anche gli ispettori ambientali, c'è la ditta che ci fornisce i contenitori, c'è la ditta che ci gestisce il servizio, quindi praticamente ci siamo al completo e siamo in grado di dare tutte le spiegazioni. Il Partito Socialista scende in campo per la tutela dei diritti dei cittadini, raccolta di firme per 5 referendum e una iniziativa contro il femminicidio. Ti amo da morire, questo lo slogan che il Partito Socialista ha scelto per portare avanti una battaglia iniziata da qualche tempo contro il femminicidio. Borse e ombrelli rossi con la frase che vuole ricordare, che purtroppo da more si può anche morire in maniera violenta. E la cronaca da un po' di anni testimonia questa amara verità. Ma l'iniziativa, presentata nella sede del Partito a Campobasso, non si fermerà alla diffusione di questi gadget, che presto saranno disponibili in tutti i centri della regione, per raccogliere fondi e finanziare una campagna informativa nelle scuole, di cui si occuperà l'ufficio della consigliera regionale di parità. In cantiere c'è anche un altro progetto, un concorso letterario che si svolgerà tra il 25 novembre e l'8 marzo, giornata in cui, hanno detto Minis, Calco, Polegi e De Mattia, si spera di vedere in giro meno mimose e più rose, simbolo dell'iniziativa. Bisogna agire sull'educazione e la mentalità dei giovani e delle comunità, perché le donne vittime di violenza non debbano portare anche il peso dell'indifferenza o, peggio, dell'emarginazione, come avviene in qualche piccolo centro molisano, ha commentato Giuditta Lembo, che ha anche ricordato che finalmente anche la regione molise, tra le ultime in Italia, avrà una legge contro il femminicidio. Ma i diritti delle donne non sono gli unici su cui il Partito Socialista si è concentrato. Infatti è iniziato anche una raccolta di firme per cinque referendum. I temi sono quelli cari ai socialisti, non solo a noi, temi importanti che si ricollegano anche a grandi battaglie fatte nel futuro. Vorrei ricordare, ad esempio, sul divorzio breve. Noi diciamo che non bisogna più aspettare dalla data della separazione fino ad arrivare all'ottenimento del divorzio ai famosi tre anni, quindi lo vogliamo ridurre. Il problema dell'uso delle droghe è leggere. Parliamo di immigrati. Oggi si punisce una colpa, si punisce una condizione, voglio dire, non una colpa. E quindi si è molto sensibile a questi temi. E così di via via via. Diciamo che il nostro impegno è totale, perché vi è totale condivisione su temi che sono temi importanti. Proseguirà anche domani la raccolta firme del PDL per il referendum Una giustizia giusta proposto dal Partito Radicale. I gazebo saranno allestiti a Capobasso in piazza San Giorgio dalle 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.00 a Termoli in piazza Monumento e a Isernia in piazza Mercato negli stessi orari. Sarà presente all'iniziativa anche il commissario del partito, Carlo Sarro. Successo di pubblico per la presentazione al Teatro Savoia di Campobasso del libro Incipit Apocalipsis di Franco Valente pubblicato dalla regia Edizioni. L'iniziativa è stata realizzata grazie al contributo dell'Associazione Vianova, la Banca Sei Torri, l'Associazione Artes Contemporanea e la Provincia. Sentiamo Giuseppe Carriera. Applausi scroscianti, un teatro Savoia pieno. L'architetto storico Franco Valente è assoluto protagonista nel presentare il suo nuovo libro Incipit Apocalipsis, un romanzo storico sul Molise per il Molise, un giallo particolare, al centro il monastero di San Vincenzo Volturno, la morte del teologo Ambrogio Outperto in circostanze misteriose. È stato ucciso? La soluzione nella lettura delle immagini della cripta di Epifanio, dove Valente, nella finzione del romanzo, rimane chiuso per tre giorni e non può uscirne. Non è stata semplicemente una presentazione di un libro, ma restituire dignità a un contesto storico che ha la sua importanza e che poi è un contesto nel quale si sono sviluppati gli avvenimenti di San Vincenzo Volturno, che rimane uno dei pilastri della storia dell'Alto Medioevo in Europa. Io spero che il libro serva a far conoscere questa realtà. Valente ha letteralmente conquistato i presenti con una lezione di storia e architettura, di letteratura e pittura. Ad accompagnare le sue spiegazioni, la lettura di brani del libro da parte dell'attore Edoardo Siravo e il suono dell'arpa mirabilmente accarezzata da Filomena Caterina. A coordinare la serata, il collega Tonino Danese. L'evento è organizzato in favore della associazione pro malati oncologici Anna Pistilli Sipio Perazzelli. Il libro sta avendo un grande successo e sembra essere il primo di una trilogia di Valente. È una trilogia che comunque vede degli avvenimenti che passano per la cripta di Epifanio, che io continuo a considerare uno dei punti di incroce di tutta la cultura alto medievale. Ovviamente sono romanzi che servono soprattutto a creare l'opportunità di conoscenza di fatti storici che molto spesso noi sottovalutiamo. Franco Valente poi è intervenuto sulla paventata chiusura del Savoia simbolo non solo per Campobasso ma per l'intero Morise. Il Teatro Savoia appartiene a tutto il Morise quindi l'ipotesi di una chiusura sarebbe l'inizio di una sciacura. Il Teatro Savoia deve continuare a vivere e a vivere molto meglio di come ha vissuto fino a oggi. È necessario soltanto quell'intervento politico che potrà garantire il futuro di questo importantissimo monumento molisano. Oggi il Santuario di Castelpetroso sarà elevato a Basilica Minore. Il rito preseduto dal Vescovo di Campobasso Bregantini e concelebrato dal Vicario Episcopale per il Santuario Don Mucili e da altri sacerdoti della Dioce si siterà alle 17. Durante la Messa il Sindaco di Campobasso di Bartolomeo come da tradizione offrirà l'olio per la lampada votiva che arde ai piedi della Madonna addolorata di cui oggi ricorre il 123esimo anniversario dell'apparizione. Alla cerimonia, oltre ai fedeli e ai pellegrini attesi in gran numero parteciperanno le massime autorità civili e militari della Regione. Un percorso di musica, arte e cultura per riscoprire il centro storico di Campobasso. L'iniziativa è dell'Associazione Città Vecchia che dalle 20 di questa sera ha organizzato un itinerario guidato che partirà dalla chiesa di San Giorgio e proseguirà fino a Piazzetta Iapoce. E' grande successo già dalla prima serata per la quinta edizione della festa del mais in svolgimento agli Elzi. L'Associazione La Meridiana ha proposto le arepas venezuelane e stasera si replica ma con un menù tutto ispirato alla tradizione molisana. Sentiamo. 50 kg di farina di mais importata direttamente dal Venezuela per 1250 arepas fraganti panetti fritti imbottiti con carne di maiale, di vitello, con formaggio o con uovo e cipolle. Queste specialità insieme alle empanadas che per gusto e aspetto ricordano i calzoni ripieni della tradizione italiana rappresentano il menù offerto ai Elzi nella prima serata della quinta edizione della festa del mais organizzata dall'Associazione La Meridiana. La serata del venerdì, ormai da due anni, è dedicata alla cucina venezuelana in cui l'uso del mais è molto diffuso e l'Associazione può vantare al suo interno diversi membri che hanno trascorso buona parte della loro vita nel paese sudamericano portando con sé non soltanto le ricette originali ma anche gli strumenti del mestiere come la tabla, indispensabile per dare alle empanadas lo spessore ideale o la carmenzita, una spezia capace di donare un colorito rosso intenso all'impasto senza renderlo per questo piccante o alterandone il sapore. Quest'anno la festa si è spostata alla fine di Corso Vittorio Emanuele in Via Andrea Variante, alle spalle del Monumento ai Caduti in una struttura riscaldata di 500 metri quadrati con 500 posti a sedere nella seconda serata, quella di oggi, torna invece il tipico menù a base di mais per la sagra della pizza, minestra e cicoli con un vassoio ricco di gusto e tradizione pizza e minestra, pizza, peperoni e cicoli, granone bollito e un dolcetto al mais per terminare. La gente è già collaudata l'anno scorso, quest'anno c'è una maggiore affluenza e questa è la soddisfazione più grande che io possa avere e ringrazio tutti i partecipanti che sono venuti. Piatti gustosi, leggeri, saporiti per non rinunciare al gusto di un alimento semplice come il mais sperimentando accostamenti inediti che rapiscono il palato senza allargare però il girovita con un'attenzione particolare anche alle esigenze dei sceliaci una festa che è capace di unire attraverso la grande qualità delle materie prime tradizioni culinarie apparentemente tanto lontane ma in pratica vicinissime come quelle iersesi e venezuelane. Vediamo uno sguardo agli appuntamenti della giornata a Campobasso vi ricordiamo che in svolgimento è il Festival del Talento e della Creatività con eventi sia presso l'Ex Gil che in Piazzetta Palombo fino a questa sera alle 21 a Morcone alle 17.30 cerimonia di inaugurazione della 46esima fiera campionaria a Campobasso alle 18.30 presso la Galleria Artes inaugurazione della mostra Ipotesi di Unione opere scultore di Antonio Natale Di Maria e poi a Frosolone stasera continua l'Octoberfest presso gli antichi sapori di Colombina con lo spettacolo di pizzica degli Artetica e prima di concludere una notizia per gli appassionati di motori oggi e domani porte aperte presso l'unica concessionaria Volkswagen per il Molise Vitale Motor per la presentazione della nuova Polo Tech Sound nella concessionaria quindi Vitale Motor a Campobasso nella zona industriale e a Termoli in via delle Acace questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito vi lasciamo allo sport buona giornata grazie per avervi capito grazie per averci seguito giù il manco è delissimo grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.